Ragazzi buonasera e buon venerdì 9 di giugno, eccomi qui ore 19.26, è passata la giornata, siete passate in tantissime ad approfittare della promo che abbiamo fatto soltanto per questa settimana, vorrei ricordarvi è ancora valida, a partire da questa mattina praticamente abbiamo fatto una mega promo perché le scarpe della collezione primaverile già in promo a 19,99 euro soltanto per questa settimana le potete acquistare a 10 euro se avete speso 50 euro di articoli della new collection ragazze, che dire che siete passate in tantissime, che abbiamo visto un sacco di numeri di scarpe che ve le siete prese, siete venute ad accaparrarvele subito, avete fatto benissimo anche perché come vi stavo dicendo ragazze le scarpe primaverili si portano benissimo anche d'estate perché non tutte portano le scarpe aperte e con questa promo vogliamo proprio avvantaggiarvi ma adesso bando alle promo vi faccio vedere innanzitutto il mio look of the day di oggi e poi ragazze nuovo scarico con i riassortimenti perché il vestito per bisogno, quello che abbiamo messo pure in vetrina, quello fantastico, un tessuto di Georgette ragazze abbiamo preso tutto quello che c'era disponibile a magazzino perché è veramente non bello, bellissimo, vi sta piacendo tantissimo abbiamo fatto un all in di tutto quello che c'era disponibile a magazzino per quanto riguarda questo modello bello, taglia unica, Georgette leggero per vestire le vostre serate d'estate e oltre ai riassortimenti come al solito sono arrivati pure articoli nuovi quindi tenetevi pronte ma prima come sempre si comincia dal mio look of the day vi faccio vedere il jeansetto modellino push up modellino a pinocchietto ragazze che veste benissimo questo modello qui vita medio alta come vi stavo dicendo push up semi elasticizzato in un tessuto leggero leggero ragazze ce l'abbiamo disponibile a partire dalla taglia 42 fino a una taglia 52 e ragazze veste benissimo è fantastico mi piace la leggerezza mi piace il fatto che si possa risvoltare nella parte di sotto ma anche lasciare lungo ragazze guardate quanto è morbido questo jeans incredibilmente comodo per quanto riguarda il sopra ho scelto di mettere la blusa in cotone grezzo fantasia onde che è rimasta soltanto vi è piaciuta molto indossata come la sto portando io annodata ma è carina da mettere anche scesa ragazze ve la faccio vedere indosso perché è un cotone grezzo ultra leggero con la manica a tre quarti che volendo si può risvoltare con un collo ampio ragazze che veste benissimo pur essendo cotone grezzo non traspare assolutamente però se volete potete fare come ho fatto io che ci sono andata a mettere una la lunghezza di questa maglia che è ultra fresca e perfetta per tutta l'estate e soprattutto in taglia unica con una vestibilità questa è veramente incredibile perché ragazze è impalpabile praticamente avete soltanto una maglia che si appoggia sulle spalle in un tessuto leggerissimo fa quasi freschetto con questa maglia ve lo dico poi ecco copre le sciapette copre il pub davanti si può portare sciolta si può portare messa dentro e quindi poi sblusacchiata ma si può portare anche annodata come ho fatto io ragazze bella guardate le colorazioni su questo jeans mi piaceva tantissimo mi piaceva anche grazie alla linea nera da abbinare all'anfibio che vorrei ricordarvi si può prendere in promo a 10 euro se spendete 50 euro questa settimana per quanto riguarda l'abbigliamento e c'è ancora qualche numero disponibile di questo modello me ne sono rimasti due o tre paia quindi se vi interessa passate subito a questo punto cominciamo a vedere che cosa c'è di nuovo cominciamo subito subito ecco qua già mi ricordo che ci sono delle bluse ragazze io vi faccio vedere intanto il modello le fantasie le ho fotografate le sto rimandando in ordine perché vi dico avevamo scaricato in filo di viscosa anzi maglia di viscosa morbidissima morbida morbida la viscosa la fibra naturale che deriva dalla forpa del legno trattata una serie completa con ben 3 e 3 6 fantasie compresa questa qui per quanto riguarda le smanicate con uno scolletto a v a spalla larga che rimangono leggermente più cortine nella parte davanti ma proprio irrisorie comunque coprono il pub e leggermente più lunghette nella parte di dietro modellini molto molto morbidi molto molto freschi ragazze mie non sono riuscita neanche a farvele vedere cioè pelo pelo sono riuscita ma le sto rimandando in ordine quindi mi raccomando occhi aperti perché questo è un articolo che stiamo lavorando benissimo e che stiamo riassortendo ancora di più vi dico che mi sono ritornati di nuovo disponibili assortiti nelle colorazioni pantaloni effetto gonna quelli che arrivano praticamente sopra la caviglia che sono morbidissimi con l'elastico in vita ragazze vessono benissimo fino a una taglia 52 perché hanno l'elastico perché sono vita medio alta perché non traspaiono grazie al tessuto in crep ragazze sono veramente fantastici e vi faccio vedere che cosa ci è arrivato quest'oggi di nuovo me l'aveva chiesto che era ieri o l'altro ieri una signora è passata e mi ha detto manuela belli i tuoi pantaloni in cotone che hai con l'elastico in vita che hai in tessuto di crep che c'hai di cotone grezzo belli belli ti manca la versione in chabri eccola qui detto fatto pantalone a taglie che veste benissimo abbiamo tutte le taglie quindi mi raccomando passate per vedere questo pantalone che è ultra fresco anche perché vorrei ricordarvi che lo chambri è cotone leggerissimo appena appena semi elasticizzato per calzare meglio ma soprattutto cotone con la colorazione jeansata quindi bello come un jeans leggero e fresco come un pantalone di cotone incredibile vita medio alta l'assi con vita avanti e dietro tasche taglio chinos ragazze il risbottino volendo si può togliere come tutti i nostri pantaloni quindi renderlo più lungo che dirvi che è veramente fantastico poi che cos'altro mi era ritornato di nuovo disponibile i vestiti questi qua ve li ho fatti vedere ah ragazze mi sono ritornate di nuovo disponibili e sono fantastiche una due forse me ne sto mandando pure in ordine per me perché sono veramente incredibili in cotone grezzo ragazze di nuovo disponibile assortito nelle colorazioni perché questo lo state amando ma avete ragione è in cotone grezzo quindi ultra leggero ha la manica a tre quarti è una taglia unica che veste praticamente benissimo a tutte ma soprattutto è di un versatile incredibile perché sta bene sui vestiti sui jeans sulle t-shirt ragazze dove lo mettete lo mettete quel blazer sta veramente benissimo e noi li abbiamo ancora disponibili allora a questo punto 19 e 40 circa ragazze il punto 20 è ufficialmente chiuso vi do appuntamento a domani mattina che è sabato a partire dalle 10 fino alle 13 e 30 e dalle 16 alle 19 e 30 a questo punto da manuale è tutto mi raccomando occhi aperti sulla pagina e soprattutto ricordatevi di dire a tutte quante le vostre amiche e parenti che ci seguono su facebook di seguire RGN Lovers per non perdere le stories a questo punto vi auguro una buona serata da manuale è tutto RGN Lovers ci vediamo domani ciao ciao